Orecchie, orecchie. Restate in ascolto, il capitano McBride vuole parlare. Sì capo. Avete strafattato voi? Il procuratore generale e il vice governatore? La legge è uguale per tutti oppure mi spaglio? È quello che gli ho risposto io. Mi hanno telefonato poco fa l'avessandosi per essere stati trattati come degli spazi. Pretendevano che mi sospendessi dal servizio. E ce l'avevano permesso. E ci provino! Farò tanto di quel chiasso che saranno loro a dimettersi. Voi avete fatto soltanto il vostro dovere. Senta capitano, ma le conviene mettersi contro quei politicanti? Ah non preoccupatevi ragazzi, chi sbaglia ce l'ha pagato. Ah brutto dico, noi abbiamo sbagliato. Buon lavoro! Passo e chiudo. Ah ma è proprio una giornata nuova oggi. Perciò percorrere... Grazie a tutti.